Sì ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi andiamo a vedere un gioco che si chiama Dungeon Drop Io ho l'edizione deluxe che mi è appena arrivato da Kickstarter, la scatola è un cubettino e questo è un gioco molto molto carino, da 1 a 4 giocatori di durata una ventina di minuti circa Prima di cominciare vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale farò questo video di tutorial seguito da invece un video di gameplay a due giocatori che pubblicherò sulla mia pagina di Patreon È un gioco molto veloce nel senso che i turni sono solo 3, quindi ogni giocatore farà un'azione per turno Qui in basso come vedete abbiamo una classe e una razza, quindi ad esempio la razza di questo personaggio è lo Shadow Folk Qui abbiamo il valore di iniziativa che ci dice quanto è veloce a fare le azioni Qui abbiamo i punti ferita e qui abbiamo la sua abilità Invece abbiamo la classe, ad esempio questo Shadow Folk è guerriero E ha questa abilità qui, Intimidate Lo scopo del gioco è entrare nel dungeon assieme agli altri giocatori e uscirne il più ricchi possibile Nel dungeon abbiamo diversi tipi di cubetti Questi cubetti sono i Goblin che sono i nostri nemici, che sono quelli verdi Abbiamo le gemme che sono di tre tipi, quelle bianche, quelle blu e quelle rosa Abbiamo l'oro che sono queste qui dorate che sono praticamente dei punti secchi Abbiamo le pozioni di cura che invece sono i cubetti viola, questi sono lucidissimi quindi fanno un po' di riflesso E poi abbiamo i Magic Shield che invece sono dei cubi azzurri che qui invece non ci sono ancora Sono diversi da questi qui blu Abbiamo i cubetti arancioni che invece sono delle chiavi per aprire delle ceste che arriveranno più tardi nel gioco Quindi queste sono le cose che possiamo trovare dentro il dungeon oltre al temutissimo drago che invece il cubo più grande è questo qua Durante il nostro turno dobbiamo andare a prendere questi cubi che sono di una grandezza diversa da quelli iniziali Vi faccio vedere la differenza Vedete questo è più grande e questo è più piccolo Dobbiamo andare a prendere questi cubi più grandi che vanno messi dentro il sacchetto Ne peschiamo un tot in base al numero di giocatori Quindi se siamo i due giocatori ne peschiamo 6 Questo ce lo dice il manuale 3 e 3,6 Ne peschiamo 6 e dobbiamo andarle a droppare nel nostro dungeon Quando facciamo il setup tutti questi cubi noi li prendiamo e li lasciamo cadere da una certa altezza Dobbiamo farlo in modo che i cubi non si tocchino Ovvero che non ci siano più di due cubi che si toccano Quindi dobbiamo trovare un'altezza giusta per far sì che si spargano abbastanza Quando andremo a iniziare il nostro turno faremo la stessa cosa Quindi prendiamo 6 cubi dal sacchetto Li andiamo a posizionare sopra e li lasciamo cadere in modo che si spargano Quindi questa è la primissima cosa che si fa durante il turno È molto semplice Ci sono dei cubi anche diversi da quelli che troviamo qui Ne vediamo alcuni Abbiamo il troll che è questo qui verde Poi abbiamo la chest Che è questa qui rossa e gialla E abbiamo i magic shield azzurri come vi dicevo Qui abbiamo la stessa versione dei cubi che trovate qui Ce l'abbiamo anche nella versione più grande Il fatto che siano più grandi è solo una comodità di setup principalmente Perché possiamo distinguerli Quando dobbiamo preparare i cubi da lanciare Prepariamo tutti quelli piccoli per fare il setup e poi quelli grandi invece vanno nel sacchetto Ci sono alcune carte che fanno riferimento a cubi grandi e cubi piccoli ma sono poca cosa Quindi primissima cosa che si fa si pescano in due giocatori 6 cubi e si aggiungono al dungeon Seconda cosa che dobbiamo fare invece dobbiamo agire Scegliendo se vogliamo una delle due abilità della nostra razza o classe Quindi possiamo giocare o una o l'altra La attiviamo se vogliamo e poi dobbiamo andare a cercare una stanza sul dungeon come terza cosa Per cercare di avere il bottino più succoso Come si crea una stanza dobbiamo unire 3 cubetti grigi Nel farlo non possiamo scegliere un'area che ci faccia perdere il nostro ultimo punto vita Oppure che contenga un altro pilastro Quindi ad esempio se noi scegliessimo Io adesso qui ho un vecchio braccialetto elastico rotto che uso come cordella È molto utile Se noi scegliessimo questi due 1, 2, 3 Vedete che prendiamo dentro un altro pillar che è questo E quindi non potremmo andare a farlo Se nella nostra scelta ad esempio questo triangolo qui Noi andassimo a raccogliere i goblin I goblin ci infliggono punti vita Quindi quando li raccogliamo li dobbiamo aggiungere sui nostri cuoricini Vedete E non possiamo creare la stanza in modo da perdere l'ultimo punto vita I goblin non sono l'unica minaccia Ci sono anche i troll e il drago che sono i mostri E se li andiamo a raccogliere ci fanno molti danni Come si stabilisce chi comincia a fare questa cosa? Bisogna vedere l'iniziativa nell'angolo della nostra carta Quindi lo Shadowfall a 5, l'Higelf a 6 Chi ha meno parte per primo Gli si dà questo token prima di cominciare E così si sceglie l'ordine di iniziativa Quando un giocatore ha fatto suo turno lo gira sul lato grigio E andrà il numero successivo Quando tutti hanno giocato una volta finisce il round Quindi ricapitolando ogni giocatore Pesca e cuida sacchetto li aggiunge al dungeon Sceglie quali delle sue due abilità vuole usare Se le vuole usare e poi dopo crea una stanza per prendere il contenuto Quando tutti hanno fatto un turno è finito il round E alla fine del round bisogna rifare l'iniziativa Dal secondo round in poi partirà infatti Chi ha meno peso nello zaino Come si fa a calcolare il peso? Se noi abbiamo raccolto ad esempio questi 4 cubi Io avrò un peso di 4 Che essi siano piccoli oppure grandi I Goblin che ci hanno fatto danno non contano Chiaramente perché sono sulla nostra carta vita Quindi si va in ordine di peso Chi ha meno peso quindi chi ha raccolto meno cose E più veloce partirà per primo Se c'è un pareggio si va a vedere l'iniziativa del giocatore Quindi si ricrea l'ordine Supponiamo che sia di nuovo invertito Si parte col round 2 poi col round 3 Come facciamo a scegliere quali cubi sono più appetitosi degli altri? Ogni giocatore all'inizio della partita Gli viene dato una quest card che è questa Ne andiamo a leggere una d'esempio Lui è un Earl's Herand Vuol dire che i cubi per lui Quelli viola valgono 3 Quelli blu valgono 2 Quelli bianchi valgono 1 Più c'è una regolina L'oro di dimensioni piccole vale doppio E l'oro di dimensioni grandi vale triplo Quindi questo Shadow Folk Questa quest è segreta Adesso la tengo a faccia in su Questo Shadow Folk vorrà principalmente L'oro meglio se è grande E i cubi magenta Mentre L'Igelf Bard La sua specialità è lo Scout Gli piacciono i cubi bianchi Blu e un po' meno quelli magenta Se sei il più leggero o anche a pari merito Alla fine della partita fai 7 punti Quindi anche questo non è affatto male Qui abbiamo un piccolo riassuntino invece degli altri tipi di cubi Abbiamo detto che i Pillars che sono i cubi grigi ci servono per andare a formare la stanza I mostri sono i Goblin che tolgono 1 di vita I Troll che sono più grandi Quindi arriveranno da quando li lanciamo nel sacchetto Tolgono 2 di vita e però ci danno 2 punti Il Drago invece ci dà 8 punti ma toglie 8 di vita L'unico modo per uccidere il Drago infatti è avere il Magic Shield Ora lo vediamo Abbiamo l'Health Potion La possiamo togliere dal nostro stash per curarci di 1 Abbiamo il Magic Shield che ignora una perdita di vita da un mostro L'oro vale sempre 1, grande o piccolo che sia E poi dopo abbiamo le Key con le Chest Per ogni coppia di chiave e chest che abbiamo nell'inventario Alla fine della partita andiamo a tirare il dado con la chest Per vedere quanti punti fa E poi dopo le gemme fanno punti in base a quello che dice la nostra carta Quindi dicevamo se abbiamo una coppia di chiave e chest Vedete nell'1 c'è il simbolino della chest Noi praticamente andiamo a tirarla In questo caso mi fa 2 punti Vedete Quindi questa è una cosa che si fa invece a fine partita Ci sono poi delle espansioni C'è il cubo gelatinoso C'è gli scheletri C'è la variante in solitario Che viene presentata Anzi non viene presentata nelle regole Ma ci dice che dobbiamo scaricarla dal sito E poi dopo abbiamo un heroic team mode Dopo le prime partite il gioco ci consiglia caldamente di utilizzarla Sostanzialmente vengono dati agli eroi uno di questi meeple Che vedete qui Prima che cominci un giocatore Avversario Noi andiamo a posizionare il nostro meeple sulla mappa E se lui lo raccoglie all'interno di una stanza Noi andremo avanti in un tracciato che ci darà punti alla fine della partita Quindi con questa modalità dobbiamo insomma prevedere quali stanze Sceglieranno i nostri nemici Qui abbiamo nel regolamento anche un piccolo riassuntino Vedete i cubetti d'oro sono 12 small 8 large Quindi 12 piccoli 8 grandi ognuno da uno Qui c'è tutto il riassuntino Il drago ad esempio è uno huge Vuol dire uno enorme di dimensioni È l'unico cubo così grande Ti dice tutto quanto I troll sono 4 sono large Quindi c'è scritto tutto E direi che queste sono le regole per dungeon drop Come vi dicevo pubblicherò il video di gameplay a due giocatori sul mio canale di patreon Vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale Noi ci vediamo alla prossima puntata